Dopo una serie di attacchi il sindaco di Teramo oggi ha inteso rimandare al mittente le accuse provenienti da più fronti sul suo modo di amministrare la città. Mi hanno detto che stamattina campeggia una vela che parla di alcune attività non condivise dall'amministrazione. Io accetto, ripeto, qualsiasi tipo di polemica, però credo che si dicano delle cose gravi che vanno valutate anche in altri ambiti. Se qualcuno ha dei dati o ha qualcosa da dire lo può dire, però deve essere poi confortata da prove, da fatti. Chiacchierare, fare soltanto chiacchiere non è assolutamente una cosa positiva. Delle aspette che più hanno infastidito il primo cittadino, la questione di scarica la torre che avrebbe creato uno sconto tra lo stesso sindaco e l'assessore all'ambiente di Stefano, che avrebbero linee diverse. Il fatto di favorire interessi privati in alcune azioni, quale ad esempio il nuovo teatro, la cui realizzazione passa per l'abbattimento del vecchio comunale. Poi il caos della viabilità cittadina, la cartellonistica abusiva. Mi risulta che chi sta parlando di pubblicità abusiva in quel momento sta commettendo esso stesso un abuso. Questo mi viene detto dagli uffici perché non mi sembra che sia stata nessuna autorizzazione a che si svolga quel tipo di attività. Quindi insomma io vorrei dire ai cittadini terramani che questa amministrazione sta amministrando in un palazzo di vetro, un palazzo di vetro trasparente, che non ha nessun retropensiero, non ha nulla da nascondere. Le cose vengono fatte nell'unico e nel solo interesse della nostra città per uno sviluppo e una crescita della nostra città. Di tali questioni e di altro ancora il sindaco di Termo Maurizio Brucchi parlerà domani sera nei nostri studi. Ospite di Tony Zitella nell'abituale appuntamento di Cosa succede in città.